La delicatezza e l'eleganza delle scarpette rosse in ceramica, anche per questo 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, colorano le sale dei musei civici di Palazzo Mosca. Un'iniziativa promossa cinque anni fa dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, alla quale Pesaro partecipa in collaborazione con lo Studio d'Arte Donzelli e Ceramiche Bucci, che assieme ai loro corsisti hanno dato vita ad un dialogo tra le opere d'arte storiche dei musei civici e i simboli in ceramica a simboleggiare la violenza sulle donne. Le cronache di questi ultimi giorni ci ricordano che la battaglia non è finita, ma che anzi tutte le forze della società civile si devono smobilitare in quest'azione collettiva e iniziative come questa di oggi all'interno dei musei, che coniugano il lato della bellezza, della cura, con una lotta collettiva, penso rappresentino il connubio perfetto di un'azione collettiva a cui mi stavo riferendo. Il caso di Anastasia è solo l'ultimo femminicidio in ordine di tempo avvenuto nel nostro territorio. A testimoniare quanto ancora la società debba essere sensibilizzata su questa delicata tematica. A farsi forza però sono le donne che di anno in anno trovano sempre più coraggio nell'affidarsi e confidarsi con le istituzioni. Nel 2021 sono state circa 150 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza. Nel 2022, fino al mese di ottobre, sono già 167. Questo è già un dato che ci porta all'attenzione quanto il centro antiviolenza sia conosciuto all'interno del nostro territorio e quanto in realtà ancora dobbiamo fare per potenziare alcune azioni, specialmente quelle che riguardano l'autonomia della donna dopo la presa in gestione del proprio carico e della propria denuncia. Un altro dato che molto spesso viene soffocato dai numeri dei femminicidi, che però mi sembra un dato importante a livello nazionale, sono 88 casi di violenza al giorno in tutta Italia. Significa che mentre stiamo parlando già una donna sta denunciando un caso di violenza domestica o di violenza contro se stessa, che non porta necessariamente al femminicidio, ma che è un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Un impegno a 360 gradi coinvolge anche il Comune di Pesaro per contrastare ogni tipo e forma di violenza. Si mobilita attraverso le istituzioni, il centro antiviolenza, che prevede un accordo di rete ancora più potenziato anche nell'ottica del Codice Rosso, che è l'estrema razio di fronte a un caso di violenza. Ma lo fa con un'azione che continua, 365 giorni siamo presenti nelle scuole con momenti di formazione e sensibilizzazione. Siamo presenti come terzo settore, come volontariato, che attraverso iniziative come quella di oggi, anche se vogliamo lontane dal carattere specifico dell'iniziativa, quindi il mondo della ceramica con la violenza sulle donne, però di fronte a iniziative importanti e problemi della società si ritrovano. Quindi diciamo che il Comune di Pesaro fa quello che sa fare meglio, fare rete e contrastare la violenza attraverso un lavoro collettivo. Chiaramente è un segnale, è un segnale che arriverà ai visitatori di musei, arriverà a chi verrà a visitare le opere nel percorso ordinario e si inserisce tra le numerose iniziative, compreso anche un consiglio comunale molto tematico che si tengono appesi in questo periodo così, diciamo, drammatico anche per i fatti di cronaca recenti da Fano e non solo e che ovviamente vuole essere un segnale come a tutta Italia e alla mobilitazione con gli amici della ceramica. Scarpette rosse in ceramica è il titolo della mostra che sarà visitabile dal 25 novembre all'11 dicembre da martedì a giovedì dalle 10 alle 13 e da venerdì a domenica sempre dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.